fuoco nella galleria di pedemontana all'altezza di cislago mozzate a bruciare le fiamme sono all'interno delle gallerie che erano appena da pochi giorni state coperte non si sa ancora cosa abbia scaturito l'incendio le fiamme sono visibili a chilometri anche da tradate anche sull'altro lato esce una piccola colonina di fumo ma il peggio è proprio scavalcata la ferrovia a confine tramozzate e cislago grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti